Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Uccidetelo! Uccidetelo l'assassino! Fate a pezzi quel maledetto bastardo! Seguitelo! Mi servono munizioni Ah ah! Eccolo laggiù! Addosso! Permettevi pure! Ce ne sono parecchie spasse in giro Non c'erassino! Non ci sanno, non è due! No c'erassino! Oh non! Si! Non le vestite al canale! Non si c'erassino! Non è quello che fa! Il sanno, è quello che sarebbe persidire! Non c'erassino! Il sanno, è quello che vuole preparare! Poi, hai colors, che vuole chi vede! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti